L'almanacco della fede Di Padre Livio Cari amici, quando ci sono eventi come quelli che abbiamo vissuto in questi giorni, eventi che ci fanno paura perché comunque abbiamo visto forme di brutalità che come dice la Madonna in un messaggio quando l'odio è cieca e non vede più nulla. E purtroppo la Madonna ha detto che Satana sta scardinando i cuori con l'odio, ha detto che nel mondo c'è l'odio ed è per quello che c'è la guerra. E poi si esprime in forme che pensavamo di brutalità, che forse si sono viste neanche nell'ultima guerra mondiale o sì si sono viste anche nell'ultima guerra mondiale, specialmente nei lager tedeschi. Però pensavamo che queste forme di brutalità, non so come dire, fossero superate. E comunque ci sono delle regole minime che anche una guerra deve avere se no cadiamo al livello della pura brutalità, della pura bestialità. Questo però, cari amici, va detto che succede sempre quando si è accecati. Non è che alcuni per costituzione siano più portati all'odo di altri. Siamo tutti esposti a questa potenza del male dalla quale dobbiamo guardarci. E anche noi adesso dobbiamo guardarci e guardare il cuore perché ci sono sentimenti di pace e di intercessione. E perché attraverso l'amore di Dio, spalancando i nostri cuori, facendoli conquistare l'amore di Dio, possiamo essere come delle tighe che fermano il male nel mondo. E quello che ci ha detto la Madonna in questi giorni, il messaggio che ha battuto Ivan, con lottate contro il male. Cioè, lottate contro il male vuol dire, cari amici, aprire il cuore all'amore di Dio, perché è l'amore di Dio che poi vince il male. E questa è la cosa che mi ha impressionato di più, insomma, perché, non lo so, un leader mondiale in questi giorni ha detto che vuole costruire un mondo nuovo. Dio mi scampi ai libri del mondo nuovo che vogliono costruire. Quale mondo nuovo? Il mondo della brutalità, il mondo della dittatura, il mondo della violenza, il mondo del soppruso. Cioè, il mondo nuovo è l'inferno sulla terra. Questa è una realtà che si sta espandendo e poi esploderà, ovviamente, questa bomba, la vera bomba, è quella spirituale, è l'odio nei cuori. D'altra parte, l'odio nei cuori è conseguente al fatto che non attingiamo più al Dio dell'amore, non attingiamo più al suo amore, alla sua legge d'amore, che prima di tutto ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo come te stesso. Ma a mano che c'è, ah, non teniamo da Dio, diventiamo delle bestie, delle bestie feroci. Comunque le bestie hanno delle regole ancora. Quando sono sazi smettono di mangiare, ma noi no. La, come dire, la brutalità è una china lungo la quale acquista velocità ma a mano che si va avanti. Come ha detto il nostro grande poeta Dante, che la bestia che è in noi dopo il pasto che ha fatto ha più fame di prima, mai non sazia la bramosa voglia, ma dopo il pasto ha più fame che pria, ha più fame di prima. Questo, cari amici, non sto descrivendo una parte o l'altra, no, sto descrivendo noi stessi. Noi stessi, quando ci annunciamo l'amore di Dio, la potenza del male ci afferra e ci distrugge. Questo è proprio il momento in cui tutti quanti, tutti quelli che hanno ancora le orecchie per intendere, devono proprio, come dire, dal profondo grido a te, oh Signore, se non ascolta la mia voce, cioè aprire il cuore a Dio, al suo amore, a sentimenti di pace, a sentimenti di fratellanza. Ma quante volte ce li ha indicati Papa Francesco, questi sentimenti che sono i più necessari per il futuro del mondo. Quello che mi è prescente è proprio questo. Adesso è proprio questo, c'è la brutalità con cui dei giovani ammazzano altri giovani che stavano facendo, per carità, un party al quale io manderei mai i miei figli. Dico questo senza volere per carità, però, diciamo, erano gente inoffensiva da fine fine. Sono stati valcidiati, portati via, così pure donne e bambini, entrati nei kibbutz, portati via centinaia di persone e poi sappiamo quanti morti, insomma, sono mille i morti circa, quelli che si sono stati identificati, comunque trovati adesso, da parte israeliana e ormai sono migliaia i feriti. Una carneficina brutale. Cioè una volta gli eserciti si confrontavano, adesso si spara sui civili. Il che sta a indicare la brutalità e la presa satanica che le porte dell'inferno hanno su di noi, sui nostri cuori. Adesso, cari amici, c'è la risposta. Io non voglio entrare in politica e neanche in tutte quelle argomentazioni che sarebbero anche necessarie, perché anche qui c'è l'aggredito l'aggressore, però poi non si finisce più di ragionare al riguardo. Vorrei dire adesso ci sarà ovviamente una ritorsione, una reazione, possiamo dire una reazione. Gli israeliani giustamente parlano di legittima difesa e di necessità di sopravvivere a questi attacchi, ma immagino le cronache che dovremo fare in questi giorni saranno, come dire, terribili. Per cui sono qui, prima di fare le nostre letture, le nostre informazioni, sono qui a dire, diventiamo una forza di intercessione, una forza di intercessione per questa povera umanità che va verso la catastrofe, una forza di preghiera. Preghiamo perché Dio ci mandi un soffio forte di Spirito Santo che apre i cuori e che cambia il mondo, si cambia il mondo con l'amore di Dio, non con i missili con i quali uno si vanta di colpire o qualsiasi parte della terra, con i quali uno dice voglio cambiare il mondo. A me non le dicesse queste cose. Il mondo si cambia con l'amore di Dio, il mondo si cambia con l'umiltà, con la compassione, con la pietà, con il rispetto del prossimo, dandoci da fare per vincere i nazionalismi, per vincere i razzismi, ci sono anche i razzismi che oggi trionfano, e capire che siamo tutti figli del medesimo Padre, tutti redenti alla sangue di Cristo, tutti figli di Maria. Questo, cari amici, è la barriera spirituale che dobbiamo opporre alla potenza del male in questi giorni. Però in questa riflessione con quale voglio aprire la nostra formazione, la nostra riflessione anche sui eventi, e vorrei soprattutto toccare il tema, diciamo così, perché mi arrivano anche tanti email di persone insomma che sono anche apprensive, giustamente, quindi vorrei dire, vedete, tutte queste cose la Madonna ce le aveva dette, andate a vedere i messaggi degli ultimi due anni, tre anni, quando c'era il Covid, e noi eravamo preoccupati del Covid, e la Madonna ci diceva Satana vuole l'odio, Satana vuole la guerra, Satana vuole giustare le vostre vite per i suoi quali vivete, Satana miete le anime, e vi siete persi figli miei, cioè ci aveva detto quello che stava accadendo, ma noi eravamo tutti affalcendati, e così il mondo è andato sempre più alla deriva, e cari amici, allora, quello che volevo dirvi è questo, voi pensate che la Madonna è qui ormai da oltre 42 anni, è qui che ci mette in guardia da questi pericoli, i pericoli sono due, poi è uno solo, possiamo dire, la distruzione della fede, quindi del rapporto con il Dio, dell'amore e della pace, perché non c'è altro Dio, al di fuori del Dio dell'amore e della pace, c'è un solo Dio, che è il Dio dell'amore e della pace, e tutti gli altri sono idoli, quindi, cari amici, noi dobbiamo ritornare al Dio dell'amore e della pace, tutti quanti, l'umanità intera, deve tornare al Dio dell'amore e della pace, che si è manifestato in colui che è stato crocifisso per i nostri peccati, che ha perdonato sulla croce, che ci è inviato ad annunciare l'amore di Dio in ogni parte del mondo. Ora, cari amici, quello che voglio dirvi è questo, vedete come la Madonna ci ha accompagnato in tutti questi anni, aprendo il nostro sguardo sulla potenza del male che cerca di impadonirsi del mondo, con le guerre, con le nuove armi, con le prepotenze, con opere infernali, ci ha messo in guardia. Chi di noi anni fa poteva immaginare che il mondo arrivasse, quando si parlava delle sorti progressive del mondo, eccetera, eccetera, fino a qualche anno fa era tutta una prospettiva del mondo nuovo, quello senza Dio, dove finalmente non c'è più un Dio che punisce, dove finalmente c'è la libertà, eccetera, eccetera, il mondo della scienza e della tecnica. E' tutto un bluff. Tutto un bluff. Esiste un solo mondo, cari amici, che è quello che parte dal cuore umano che si apre all'amore di Dio. Vedete come tutto ciò che la Madonna ci ha detto si è realizzato. Come i suoi messaggi sono una profezia che si realizza. Come i suoi messaggi ci rivelano la potenza del male e nel medesimo tempo ci danno la medicina, il nostro cuore che si apre a Dio. Vorrei dire, cari amici, soprattutto quelli che sono più rapprensivi giustamente, perché molte volte uno dice ma quale futuro avranno i nostri figli? Addirittura ci sono anche quelli che dicono mettere al mondo oggi i figli ma vale la pena? Cosa ci sarà? Cosa accadrà? Dove andremo a finire? Si prepara una guerra? Chi vincerà? Chi saranno i vinti? Chi vincitori? tutti tutti diciamo gli spettri che si affacciano nei nostri sonni questi cari amici ma voi guardate guardate che Dio ci ha dato la salvezza che per tempo Dio ha inviato sua madre qui sulla terra per guidarci sulla strada che ci porterà al tempo della pace. ci ha fatto la Madonna presente in apparizioni quotidiane tutti i giorni ci ha illuminato ci ha guidato ci ha confortato ci ha aiutato a passare momenti della storia terribili con i quali potete il mondo essere distrutto pregando con lei sacrificandoci con lei offrendo i nostri piccoli fioretti il nostro digiuno la Madonna ha ottenuto miracoli grandiosi ha salvato l'umanità dall'autodistruzione ma noi cosa abbiamo fatto sempre più ci siamo allontanati da Dio sempre più abbiamo presunto di noi stessi abbiamo pensato che noi siamo capaci di darci la pace di costruire un mondo senza Dio che noi senza Dio siamo meglio stiamo meglio facciamo meglio siamo più libri siamo più intelligenti e Satana si è beffato di noi ci ha preso in giro ha messo se stesso al posto di Dio e noi ci siamo inchinati ma Satana è una fonte inesauribile di menzogne e di odio e lo sta disseminando in tutti i cuori cari amici allora allora ecco ritorniamo a Dio torniamo al cuore di Maria come la Madonna ci ha detto nel messaggio del primo gennaio del nuovo secolo del 2000 la Madonna ha detto ora che Satana è sciolto dalle catene ritornate aprite e ritornate al mio cuore e a quello di mio figlio Gesù i due cuori di Gesù di Maria siano sono la nostra speranza siano il nostro futuro siano la nostra certezza è lì che dobbiamo rifugiarci è in essi che dobbiamo sperare è ad essi il loro amore che dobbiamo attingere ogni giorno l'almanacco della fede di padre Livio grazie a tutti